Ebbene, come promesso, eccoci ritrovati insieme anche questa settimana con il nostro specialista in scienza dell'alimentazione, dottor Salvatore Cusenza. Buongiorno e bentrovato, dottore. Buongiorno a tutti. La salute viene mangiando, come recita la nostra sigla, il cibo è la nostra prima medicina, lo spiegavamo già la scorsa settimana, così come dicevamo che le buone abitudini non possono essere un fatto estemporaneo dell'ultimo momento, perché magari ci affacciamo all'estate, ma devono essere buone pratiche costanti da attuare tutto l'anno. Dottore, per esempio, ecco, si fa molto parlare di diete chetogeniche, è un refrain che ritorna spesso al nostro orecchio, ma ecco, sappiamo bene di cosa stiamo parlando? Io non proprio, per cui ti chiedo l'UMI. Allora, sì, arriva il periodo dell'estate e molti si buttano su queste diete chetogeniche, trasformando in realtà in diete prive di carboidrati, prive di grassi, in diete proteiche. In realtà la dieta chetogeniche nasce nel 1920, quindi 104 anni fa, perché un medico, un neurologo, con un figlio che aveva crisi epilettiche non compensata da farmaco, vide che riducendo i carboidrati le crisi si riducevano, fino a quando non è eliminato del tutto i carboidrati e le crisi si sono spente. Quindi è una terapia medica, la dieta chetogenica, con un rapporto chetorazzi, quindi grassi, proteine di un certo numero, si arriva addirittura a un rapporto di 4 g di grasse verso 1 di proteine e pochissimi carboidrati, 20-30 g di carboidrati. Quindi è una terapia medica che nasce più di 100 anni fa per le crisi epilettiche, per l'emicrania, per l'ovaio policistico, diabetes tipo 2 non compensato dove non si usa l'insulina e ultimamente, negli ultimi anni, l'applicazione è anche alla fibromialgia e alle patologie autoimmuni. Quindi logicamente la carenza di carboidrati porta il corpo ad utilizzare il grasso corporeo e a ridurre il peso abbastanza velocemente, ma non è un'iperproteica, non fa male ai reni come molti ne parlano, non ha una durata di 20-21 giorni come qualcuno dice, ma può avere una durata a vita, perché se un paziente ha l'insufficienza dei GLUT4 che sono gli enzimi che servono a far entrare, a utilizzare lo zucchero, devono in qualche modo vivere, non possono campare solo 21 giorni. Quindi è vero che non è dieta che fa perdere grasso, ma nasce per altri motivi e dovrebbe essere fatta non dal primo che passa, ma da chi veramente conosce questo argomento. E senza dubbio anche sul lato professionista, il lato medico è importante un monitoraggio costante, tu citavi tra le altre patologie, l'emicrania per esempio, che purtroppo qualcosa che riguarda tanti italiani, uno ce l'hai di fronte a te e l'altro anche, siamo in due allora, siamo uno di fronte all'altro. Purtroppo, purtroppo, quindi ecco, soffriamo di questa patologia che va monitorata costantemente perché magari le cause che possono innescare l'emicrania possono essere molteplici, quindi uno specialista, tante volte, correggimi se sbaglio, dottore, non ha la bacchetta magica per risolvere i problemi all'istante, ma deve seguire. Lo specialista tendenzialmente tenta a darti il triptano o l'antinfiammatorio, questi farmaci qui, però molte volte il corpo poi, dopo un certo periodo di tempo, va in ossifazione e non funziona più il farmaco. Io collaboro con il centro cefale di Bari e su Bari mi mandano questi pazienti e l'efficacia è del 99%. Se si eliminano i carboidrati, si aumentano i grassi, una giusta dosi proteine, l'emicrania tende a scomparire. O comunque, se prima il paziente aveva 15-16 episodi di emicrania al mese, si riducono a 1-2, che è una qualità di vita diversamente migliorata. E' estremamente più sostenibile. Le cause che innescano le emicranie sono molteplici, quindi dicevo, no, lo specialista ha il compito di seguire un paziente su lungo termine per poter rinquadrare bene caso per caso. Però si è visto che il carboidrato fondamentalmente tende a impiammere il corpo e a stimolare questi centri dell'emicrania. Quindi togliendoli, riducendoli a 15-20-30 grammi al giorno, l'emicrania tende a spegnersi. Poi c'è qualche caso in cui non funziona, ma è la normalità questa. Ecco, perché si parlava di un impegno, quasi di una cura che farmacologica non è, ma richiede lo stesso impegno, perché mangiare 20 grammi di carboidrati... Significa assorbirli solo fondamentalmente dalle verdure. Esatto, appunto, significa quindi eliminare... Non mangiare farinaci, non mangiare amidi, pasta, pane, riso, pizza. Però si può eccedere con i grassi buoni, una giusta quantità di proteine. La proteina deve stare intorno a 1,3-1,4-1,5 grammi di proteine per chilo corporeo, di peso ideale. Molto bene, molto bene. Tutto questo, dicevamo, non deve essere una buona pratica concentrata solo in un periodo dell'anno, ma queste buone pratiche devono essere diffuse lungo tutto l'anno, non ricordarcene solo alle porte dell'estate. Esattamente, anche perché, come ripeto sempre, la parola dieta arriva da Daita, significa stile di vita, non da fare solo nell'ultimo mese, perché tra un mese andiamo al mare, dobbiamo indossare il costume e quindi dobbiamo avere un fisico più accettabile. non è assolutamente così, è uno stile di vita da percorrere durante tutto l'anno, anche perché così si fa prevenzione anche per quanto riguarda le patologie, altrimenti fare queste restrizioni estreme un mese non ha senso, ma crea anche degli effetti rebound peggiori sull'organismo. Abbiamo parlato di cibi, di cosa mangiare, di cosa non mangiare o in che quantità mangiarne, ma vorrei fare anche un riferimento alle bevande, cosa bere, cosa non bere tutto l'anno, ma ecco, soprattutto anche in questo caso con consapevolezza alle porte dell'estate, che è la stagione più calda dell'anno, quindi tendiamo a bere di più, come giusto che sia, cosa dovremmo bere di più, cosa dovremmo bere di meno. Non mi riferisco solo alla tipologia di bevande, ma anche alla temperatura magari delle stesse, perché si tende a bere in estate bevande ghiacciate. Esattamente, la bevanda ghiacciata non è il massimo per il corpo umano, perché crea uno stress, se ingeriamo una bevanda a 6-7 gradi e il nostro corpo ne ha 37, creiamo uno stress al corpo, in qualche caso fa anche del male. Sicuramente bere dell'acqua è la prima cosa più importante e se non riusciamo a bere, cercare di insaporirle mettendo a macerare delle foglie di menta, di basilico, limone, quindi creare queste acque aromatizzate in modo naturale. Che diventano più piacere, ti invogliano di più. Ti invogliano a bere, poi sicuramente d'estate si ha l'aumento del consumo degli alcolici, dei superalcolici, dei cocktail. L'alcol però di per sé è disidratante, causa disidratazione, quindi se si eccede con l'alcol aumenta la disidratazione. Quindi è vero che d'estate si ha un po' più libertà però sempre nella norma. La bevanda più dilatante è sempre l'acqua, a cui poi potremmo aggiungere anche di citrato di magnesio e potassio, proprio per evitare cali di stanchezza, appannamento del fisico. Citrato di magnesio e potassio che possiamo disciogliere direttamente nell'acqua? Sì, sono delle bustine che si vendono, anche a vari sapori. Generalmente io assumo quello al gusto di arancia rossa e divento un'ottima bevanda. Che possiamo trovare in farmacia. In farmacia tranquillamente. Molto bene dottore, anche oggi ci hai illuminato con brevi chicche ma che sono indispensabili per vivere bene e abbiamo detto per farlo costantemente durante tutto l'anno. Prima dei saluti finali vuoi aggiungere qualcos'altro? Vorrei aggiungere che adesso siamo alle porte dell'estate, quindi cerchiamo di mangiare meglio anche perché abbiamo a disposizione più frutta e più verdura, senza esagerare con gli alcolici. Molto bene, come dicevamo già la scorsa settimana possiamo raggiungere il dottor Cusenza anche tramite mail all'indirizzo dr.cusenzasalvatore.com. Prima o poi lo scriveremo così uscirà un bel sottotitolo, è colpa mia che mi sono distratto su questo fronte, però lo ripetiamo dr.cusenzasalvatore.com. Non è difficile quindi si può memorizzare. Dottore però se arriva qualche mail poi devi rispondere, ti prendi un impegno ufficiale. Noi intanto ti ringraziamo per il tempo che ci dedichi ogni settimana, quindi l'appuntamento è a martedì prossimo sempre in diretta dagli studi di Padre Pio TV. Buona giornata a tutti e buon inizio di finta estate. Speriamo che prima o poi arrivi anche quella. Lì alla regia per la sigla e poi ci ritroviamo dopo la pubblicità.